Ho un'idea radicale. Il processo è reversibile. Noi possiamo invertire il flusso di particella. Come? Incrociando i flussi. Scusami, non dicesti che incrociare i flussi era male? Non c'è che incrociare i flussi. Metti a rischio le nostre vite e quella della nostra cliente. Cara signora che ci ha pagato in anticipo prima di diventare cane. No.